A Schio, sabato 24 settembre e domenica 25 settembre, si svolgerà l'undicesima edizione della mostra mercato Giardino Jacquard e la seconda edizione del concorso La Fabbrica del Giardino. Esposizione internazionale di orchidee rare, fiori, cultura del verde e giardini temporanei a tema. Vi aspettiamo a Schio, sabato 24 e domenica 25 settembre.